Prima domenica di primavera all'insegna dell'arte, fiori e della natura a Pizzighettone. Nelle antiche mura è andata in scena l'evento Fiori Arte, una o due giorni, ieri e oggi, promossa ed è organizzata da associazioni iperbole ed eventi DOC in collaborazione con Entefiere dell'Adda. Una manifestazione artistico-artigianale floreale che ha visto la presenza di una mostra a mercato con piante e fiori, artigianato artistico, enogastronomia selezionata e tante altre attività. Inoltre, per la prima volta in assoluto, è stata allestita una mostra inedita della collezione privata alta moda e miniatura, spettacolari abiti d'alta moda sartoriale, realizzati da stilisti e sarti ed indossati dalla famosa bambola Barbie. Questo è un evento dedicato a piante e fiori artigianato, sono presenti espositori da diverse zone d'Italia, una parte appunto di mostra a mercato, poi abbiamo nel pomeriggio abbiamo anche degli spettacoli itineranti con vari artisti, abbiamo poi anche i laboratori didattici per i bambini, trucca bimbi, area giochi e poi c'è un'interessante mostra che si chiama Alta Moda in miniatura, con abiti d'alta moda realizzati da stilisti per bambole Barbie che è possibile visitare o con oltre 50 modelli e poi ci sono anche le visite guidate alle Mora, la navigazione sull'Adda, quindi ci sono diverse attività.